Di Eugenio Forni, dalla madre della matriosca, con una vergine a Capodanno, in un sacco a pelo nel prato. Voce di Lorenzo Pieri. Castelvetro, 31 dicembre 1980. Di Capodanni sbagliati ne avevo già visti un bel po', ma facevo fatica ad avere memoria di uno così estremo. Io e Anselma eravamo infilati in un sacco a pelo singolo sulle colline tra Modena e Bologna, aspettando che venisse mezzanotte. Delle idee balorde che potessi avere, questa deteneva il record. Nelle ultime settimane mi ero impegnato a convincere Anselma che solo le persone grigie, prive di fantasia, affrontano l'uggia del Capodanno a una festa di amici o al ristorante a fare i trenini su musica brasiliana con cappellini, perette rumorose e stelle filanti o nella tristezza di una sala cinematografica a vedere Zanna Bianca. Non che Anselma avesse perorato tali soluzioni, ma era più o meno la congerie delle aberrazioni di fine anno che ci proponeva la vita di allora. I soldi per un viaggio all'estero, dove qualunque trapasso nel nuovo avrebbe avuto una sua peculiare dignità, non li avevamo. Correva l'ultimo anno del nostro liceo e una via per guadagnare, mantenendo la speranza vana di uscire dalla maturità col massimo dei voti, che allora erano sessanta, non la conoscevamo. Quindi tentai di salvare Capra e Cavoli, un Capodanno alternativo con l'auspicio di fare finalmente sesso completo con Anselma. Col senno di poi, credo che lei non avesse capito dove intendevo andare a parare, altrimenti, alla luce dei fatti che ne seguirono, avrebbe scantonato in fretta. Peraltro, se non eravamo riusciti ad avere un rapporto vero in tutti quei mesi, limitandoci ad un petting insoddisfacente, almeno per quel che mi riguardava, nei campi al ghiaccio e all'umido di fine dicembre, la prospettiva di successo tendeva a zero. Ma alla fine le mie argomentazioni sulla necessità di essere diversi dalla massa, di liberare le nostre più sconsiderate fantasie, di non essere schiavi degli schemi che ci stavano inculcando da quando eravamo nati, sollecitarono una parte nascosta del suo animo, la più imbalordita. Io non diedi peso ad una serie di warning che mi erano arrivati da qualche tempo, primo tra tutti, quel suo racconto sul ritrovamento di un giornalino porno nel giardino di casa sua, quando lei era ancora bambina. Anselma, ancora piccola, aveva raccolto da terra, in quel periodo in cui il sesso era veramente tabù, uno di quei fotoromanzi pornografici che tanto avevano rallegrato i pomeriggi adolescenziali miei e dei miei coetanei, un reperto abbandonato forse non troppo casualmente da qualche ricercatore del piacere di Onan. Non è comprensibile per i giovani di oggi immaginare il senso di proibito che aleggiava allora sulle immagini sessuali. Quando eravamo adolescenti non riuscivamo nemmeno a farci vendere dal giornalaio appeso d'oro uno di quei caballero o le ore. Le riviste per adulti a noi ragazzini non le concedeva nessuno. A quel tempo le regole erano rispettate, almeno dagli edicolanti. Internet non era stato ancora nemmeno immaginato e in televisione c'erano solo i canali Rai, dove al massimo compariva l'ombelico della Carrà scandalizzando i benpensanti ed eccitando noi minorenni. Dunque, a quell'età di grande curiosità insaziabile, ci accontentavamo di ciò che ogni tanto trovavamo nei campi, perché allora c'erano davvero ancora i campi dietro casa, tra la via Emilia e il West, che cantava Guccini. Come mai i giornalini porno finissero nei prati non lo sapevo allora e non saprei dirlo adesso. Uno di questi fotoromanzi pornografici era comunque capitato nelle mani della immacolata Anselma, che probabilmente svolazzava da quelle parti con scarpette, vestito candido e centrino da educanda sulla testa. Così mi ero figurato la scena con sconsolata ironia. Tutto quello che la sfortunata senza punto coscienza aveva potuto vederci erano uomini sopra delle ragazze, ed i fumetti che avrebbero dovuto rappresentare le loro espressioni recitavano qualcosa come «Oh» per i maschi e «Ah» per le femmine. Scambiare i volti e le urla delle donne per raccapriccio conseguente ad una violenza dolorosa era stato per lei immediato, vista la mancanza di contesto in cui la vergine Anselma si era trovata ad interpretare le immagini pornografiche. La conseguenza era stata che per lei, da allora, da molti anni a quella parte, l'idea di un rapporto sessuale completo era strettamente connessa a qualcosa di doloroso e terribile, da evitare a tutti i costi, o comunque questa fu la spiegazione offertami del suo diniego prolungato all'agoniato tenzone amoroso che le proponevo ogni volta. Crescendo, anche col mio aiuto non proprio disinteressato, Anselma aveva cercato di metabolizzare quei ricordi, di dar loro il proprio senso originario, e a livello razionale c'era riuscita, mettendo a fuoco che in teoria il rapporto sessuale completo era finalizzato al piacere di entrambi i partecipanti, che non c'erano né violenza, né dolore, né prevaricazione di sorta, ma il messaggio non le entrava nel profondo. Questa era la sua tesi. Dunque, dall'inizio della nostra storia, avevo collezionato una serie di no sul climax che avrebbero smarrito il fidanzato più innamorato. Va precisato che Anselma mi piaceva, è vero, ma avrei anche potuto sopravvivere senza di lei. Insomma, l'innamoramento era ancora di là da venire, per fortuna. Ritenevo comunque necessario portare a termine l'operazione, raggiungere l'unico target sensibile di quegli anni, il sesso vero. Noi maschi, a quel tempo, nascevamo con un unico martellante senso della vita, con cupire le ragazze, portarle a letto e soprattutto avere il diritto di raccontare le nostre prodezze agli amici. Che senso aveva dunque stare con Anselma, se dopo tutti quei mesi non sembrava possibile cogliere nel segno? Certo, lei era una ragazza molto carina, avevamo affinità elettive, ci piaceva passare le serate insieme a parlare, bere e mangiare panini nelle birrerie, di più non potevamo permetterci, ma gli ormoni in circolo traboccavano da narici e orecchie di noi tori, pronti alla carica e alla monta. Per colmo di sventura, Anselma era anche particolarmente sexy, aveva un fisico caldo e reattivo, e quando si restava nei limiti che lei si era prefissata, la cosa funzionava bene, troppo bene per fermarsi a quei preliminari, che risultavano sempre più frustranti. Io stavo dunque al chiodo, non avevo mai preso in esame l'idea di un colpo di mano e di passare il segno senza la sua autorizzazione davanti al suo chiaro e inesorabile divieto. Qualche amico aveva in realtà suggerito quella soluzione estrema, che però era troppo contraria ai principi di libertà e rispetto della donna, assorbiti tra frequentazioni di parrocchia e filosofia spicciola. Il meglio che dunque ero riuscito ad escogitare dopo tutti quei mesi di aneliti non corrisposti, stava nel progetto in corso. Io e Anselma non avevamo mai dormito insieme, non avevo mai avuto l'occasione di perorare la mia causa sessuale nel corso di un'intera nottata, e avevo così ottimisticamente immaginato che se la carne era carne per me come per lei, affrontare il nuovo anno stretti in un sacco a pelo, bevuti il giusto, nella solitudine delle colline, poteva essere la panacea per i nostri problemi. Infatti, ritenevo che i problemi fossero non solo miei, che non ce la facevo più così, ma senza dubbio anche suoi, che doveva prima o poi affrontare i suoi draghi per diventare una donna adulta, secondo il mio semplicistico programma. La percezione della situazione di Anpass del nostro rapporto non era però condivisa da Anselma, che non sentiva nessuna esigenza impellente di superare il suo arrocco sessuale. Anzi, quando tempo addietro, dopo il suo ennesimo rifiuto sul più bello, mi ero permesso di suggerire di risolvere il suo blocco mentale con l'aiuto di uno specialista, sessuologo, psicologo o analista, come lei preferiva, aveva reagito come se avessi tentato la penetrazione contro la sua volontà. Avevo attentato alla verginità della sua mente. Il fissato ero io, un bracco che non va a vento. Lei non aveva alcun problema da risolvere. Per quello che la riguardava, il nostro rapporto, anche sessuale, andava bene così. E se non la pensavo alla stessa maniera, che mi accomodassi. Eravamo, anzi, io ero, in un cul-de-sac. Da qui la delirante strategia di quel capodanno, di risolvere tutto con un sacco a pelo, scusate il jeu de mots. Preparai l'attrezzatura, studiando ogni dettaglio, per arrivare alla mattina indenni e soprattutto non più virgo intacta. Ah, ho tralasciato fin qui il particolare non indifferente, che non era solo vergine lei, ma lo ero anche io. A dire il vero, qualche avvicinamento al sesso completo mi era capitato, ma con risultati incerti e sconfortanti. e avevo fatto l'errore di contrabbandare con lei per qualcosa di compiuto queste esperienze oggettivamente scarse per il mio orgoglio maschile. Avevo raggiunto così il risultato opposto a quello desiderato. invece di infonderle la sicurezza di affrontare il passo supremo con chi sapeva già tutto e poteva guidarla, l'avevo allontanata perché Anselma voleva condividere la sua prima volta con chi lo faceva per la prima volta, o almeno, così aveva dichiarato, trovando una nuova scusa per prendere tempo e gettare la palla in tribuna. Eccoci dunque lì, intirizziti come baccalà in quella notte del 31 dicembre buia e gelida, in una situazione in cui, confesso, nemmeno io avevo poi tutta questa ispirazione. Anche logisticamente non sarebbe stato facile come mi ero figurato nei miei ottimistici programmi. In primo luogo lei era vestita inevitabilmente a triplo strato e per quel che potevo immaginare sotto doveva avere collanta e mutandoni antistupro. Oltre a questo elemento stativo da non sottovalutare visto che nel sacco a pelo singolo non c'era lo spazio nemmeno per rigirarsi, lei non era proprio nel mood romantico e disponibile che mi ero prefigurato in preda a non so quale fantasia ammalata. Venti minuti prima della mezzanotte quando ormai eravamo duri come ghiaccioli sia dentro che fuori e non c'erano dubbi sulla sua massima coerenza con il pregresso giocai la carta dell'alcol che in teoria doveva servire per l'imminente festeggiamento. Un brindisi alla nostra prima volta Anselma non vorrai arrivare all'anno nuovo senza aver fatto l'amore con il tuo ragazzo innamorato. Noi facciamo da sempre l'amore Giovanni potremmo farlo però una volta almeno come lo fanno tutti Anselma. Bah che pensiero banale Giovanni dove sta scritto che farlo come tutti sia la scelta corretta. La cifra di questo capodanno non stava proprio nell'andare controcorrente. Anche questo è vero Anselma dovevo riconoscere che aveva la stoffa dell'avvocato. Però finché non proviamo non lo sappiamo. Sinceramente non ho questo desiderio Giovanni. Spero che il capodanno all'addiaccio non avesse solo questo proponimento perché mi tocca deluderti. Per di più là in fondo vedo anche nubi imperiose venire verso di noi con una certa arroganza. Aveva ragione allora le previsioni televisive del colonnello Bernacca non erano molto affidabili. Ormai solo una piccola fetta di blu restava sopra a noi. Vedi Anselma da mesi cerco di assecondare le tue direttive e mi pare di non avere mai esagerato con pressanti proposte. Dipende dai punti di vista contestò lei bastava chiederlo una sola volta e dopo era scontato che appena fossi stata pronta te ne avrei parlato io. In base a un principio generale che dovresti conoscere più insisti a pretendere qualcosa e meno riesci ad ottenerlo specie se si tratta di una disponibilità che comporta un coinvolgimento emotivo non posso farlo se non me la sento. se si trattasse di mille lire che difficoltà avrei a dartele anche contro voglia e deduco che anche questa notte siamo lontani Anselma sono meccanismi molto delicati Giovanni voi ragazzi vi svegliate la mattina col sesso nella testa per alcune di noi è ancora un pensiero fastidioso non possiamo però andare avanti così per molto Anselma ormai è un anno il problema ma è solo tuo Giovanni io sto benissimo quando facciamo sesso mi piace non ho bisogno di altro ti ho spiegato che l'idea della penetrazione mi fa paura la leggo a immagini e fantasie di dolore mi pare però insistevo che tu non faccia niente per combattere i mostri che ti galleggiano nella mente i mostri mi pare li abbia tu Giovanni il cielo iniziava a borbottare lampeggiava verso occidente qualche goccia prendeva saltuariamente a farsi sentire acqua sopra e acqua sotto Anselma non è che in fondo sei così poco attratta dal sesso maschile e anzi ne hai paura che magari con una donna sarebbe meglio il silenzio che ne seguì fu difficilmente interpretabile si era offesa o era colta nel vivo o entrambe Anselma continuava a guardare là dove da qualche parte doveva trovarsi nel buio della notte e l'orizzonte la condensa del suo respiro segnalava un'accelerazione della frequenza qualche fulmine iniziava a squarciare il cielo laggiù in fondo niente penetrazione niente violenza niente dolore incalzai senza più nulla da perdere Giovanni credi di offendermi a darmi della lesbica lo so che per voi maschi l'omosessualità è un tabù ma non altrettanto per noi donne allora insistevo possiamo affrontare l'argomento liberamente senza finti pudori ti dirò sinceramente che mi consolo a pensare che ti piacciono le donne così il tuo orgoglio maschile non è offeso e frustrato attaccò lei tutti siamo un po' donna e un po' uomo e anche tu se ti guarderai dentro senza paura te ne accorgerai non credi che sia una insperata fortuna poter allargare i propri confini sessuali a 360 gradi senza pregiudizi e stupidi limiti insomma Anselma hai già fatto sesso con una ragazza nella mia fantasia sicuramente Giovanni tu no con un uomo non ne saresti curioso no grazie replicai prontamente niente fantasie di sesso con maschi anzi le immagini pornografiche del pene mi danno fastidio e non ti sei mai domandato perché ti disturbano tanto Giovanni non potrebbe essere un conflitto interiore tra i tuoi pregiudizi omofobi e un desiderio che vuoi reprimere in ogni caso dovresti essere contento e orgoglioso di aver contribuito in questi mesi a farmi affrontare i miei dubbi rispetto alle certezze sessuali che pensavo di avere tempo fa dovrei essere felice perché la mia ragazza stando con me ha capito che probabilmente le piacciono le donne certo Giovanni sempre se non sei un maschidista sciovinista non chiamare vento in mare Anselma e lascia stare Chauvin sono solo un povero Cristo che sperava almeno l'ultima notte dell'anno dopo tanta pazienza di fare l'amore con la sua ragazza che te ne faresti Anselma ormai rideva nevroticamente di fare sesso con una che secondo te è pure lesbica in fin dei conti ti ha soltanto evitato una pessima esperienza non c'è niente di peggio di fare l'amore senza che nessuno dei due ne abbia veramente voglia dai consoliamoci con l'ultima bottiglia insieme cazzo Anselma guardai faticosamente l'orologio nella notte a furia di discutere è passata mezzanotte e non abbiamo brindato per tempo e allora chi se ne frega Giovanni ormai la pioggia ci stava imbibendo cadeva sulla faccia sul sacquapelo e dava l'idea che da un momento all'altro un fulmine potesse squarciare in due un albero nei dintorni Anselma porta una iella cosmica non brindare a tempo debito scolliamoci in fretta quella boccia poi sarà meglio andare verso casa passi andare ancora in bianco ma almeno vediamo di evitare che una saetta ci faccia arrosto per il cenone di capodanno di capodanno